Un po' alla poesia e progressivamente alla pittura, non subito alla propria come pittore, ma quella di sole amici, perché pur frequentando la cattolica e la fattura di lettere come amicizie, come frequentazioni poi concrete, arriva quella dei giovani artisti scapigliati di Brera, con i quali si incontravano le celeberne trattorie e i disturbi privati che iniziano a essere frequentati nel quartiere. Quindi frequentava lettere, intanto frequentava le relazioni aperte di Brera, l'affetto amicizia, in particolar modo con Dario Fo, che è curioso il rapporto con Fo, perché uno era nato come vittore, l'altro come aspirante letterale, e poi pur continuando a fare entrambe le cose, la letteratura e la pittura, sono il ruolo principale. Amico di Valeria Dami, che era un professionale di lui, con il quale faceva grandi camminate, si accompagnava sicuramente a casa, la sera, dopo il cinema, quando conoscivano insieme, e come ha raccontato una volta d'anno, durante questi pregetti, da casa del lume a casa dell'altro, si raccontavano un sacco di storie, ragionavano su quello che era un fermento artistico milanese, perché uno dei passaggi importanti della sua attività di critico e di artista è quello di essere trovato in un momento in cui anche l'arte, si stava un po' riconfigurando, smuovendoci dai tanti realistici del neorealismo, per andare verso un altro tipo di pittura, per andare alla figura di figurazione, e quindi si fa, diciamo, un vissuto critico dei nuovi artisti figurati, e poi diventerà anche uno di loro quando inizierà a dipingere, fatto in anni 50. E probabilmente poi inizia anche a scrivere, la pittura e la scrittura sono insieme nella sua officina, entrambe in maniera in giro privata, quindi senza dire niente agli amici, e poi piano piano pubblicando, oltre a aprire poesie, qualche racconto, e poi iniziamo a fare le prime esposizioni. Fra i suoi amici, cioè a cui frequentava Brera, che avevano citato, e che veramente viene nominato nelle ricostruzioni storiche di quel periodo, e nei testi su Tadini, è quella di Luciano Bianciardi, che è uno scrittore che apparentemente ha un'altra parola rispetto a Tadini, ma che invece ammira legato le testimonianze, le prese, le citazioni che si fanno con l'altro. Uno dei primi che ho scoperto, leggendo i libri di Bianciardi, è stato trovare il personaggio di Emilio Tadini raffigurato in un paio di romanzi, uno è La Battaglia Soda e l'altro è Aprire il Fuoco, nel 69. E la sua volta poi Tadini, nel 1980, restituirà presto citando, anzi, raffigurando Bianciardi, nella lunga notte, nel romanzo del 93. E visto che però Bianciardi è uno degli autori che Michele fa muovere nella Milano di carta, mi fa piacere se invece adesso lui ci dice qualcosa sull'Abrera vista da Bianciardi o dagli altri artisti intellettuali che l'hanno animata negli anni 50-60, rendendo quella che veniva chiamata la piccola Norma Art di Milano. Sì, diciamo che il periodo di Brera, della ricostruzione, del boom, eccetera, è un periodo affascinante, soprattutto per chi come noi lo rivive sui testi, sui ricordi e non ha avuto l'opportunità di vivere in prima persona. E anche più il fatto che se adesso diciamo non per Brera ci troviamo davanti a un paesaggio totalmente cambiato, non riconosciamo più praticamente niente di quello che vi ho raccontato. Sicuramente la città di Bianciardi e le prime pagine della Vitagra sono la più grande, la più uscita rappresentazione di quel artistoid che si muoveva attorno all'Accademia e che dopo la guerra ha iniziato a unirsi in quelle vie acciottolate per un motivo molto semplice, oltre che per l'Accademia, per il fatto che la gran parte delle case erano case vecchie, senza riscaldamento, con il bagno di alcune dei ballatoi, di conseguenza un luogo dove i borghesi tendenzialmente non volevano stare a vivere. E attorno a queste case, appunto, come la Volta di Tecce, si sono iniziate a proliferare, molte c'erano già prima, alcune sono nate successivamente, le famose trattorie, tratti, latterie, dove questi artisti, scrittori, giornalisti, aspiranti a qualcosa, si riunivano. e, ovviamente... Si, ma anche quello di ieri, in un'estate, se in giornale, era proprio talmente ricco di... ci intenebrano, che cercava di una nuova aspirazione umanistica. Tra l'altro citavi appunto l'articolo a Montmartre, che non è una denominazione attuale, ma veniva chiamata in questo modo già negli articoli giornalistici dell'epoca, rispetto a Montmartre era sicuramente dei punti di contatto, tra cui la parabola che ha avuto dal quartiere degli artisti al quartiere del rettamento turistico. Ma c'è una grande differenza che se Montmartre era effettivamente un'isola nella scelta di Paligi, molto distante dal centro, sopravlevata addirittura, Frenat era in un pieno centro, quindi si veniva a creare questa caratteristica molto vialese in cui con cinque minuti a piedi tu potevi andare dalla poema di Vera all'altra borghesia che si muoveva attorno alla scala. E infatti Vera stessa in realtà non è stata soltanto cittadella di elezione per questi scatti strappi e via discorrendo. Per esempio una scrittrice come Lalla Romano che si è trasferita anche lei in un'unica guerra con il Giardi a Milano e è un cessionaggio che non ha niente a rivedere per quanto arriva in primavera la piazzetta della piazzetta che è venuta avanti all'accademia. La sua scrittura come la sua figura di personale si rifà ad ottenimento ad altri modelli collettuali perché si rifà a intellettuale borghese che vive molto di più nei salotti nella distrezione relativica di un certo tipo di intellettualità lombarda che si rifà ad ottenimento e anche si rifà ad un discorso generazionale perché in realtà la Romano è della generazione immediatamente precedente a quella di viaggiarvi o di infatti le sue frequentazioni sono piuttosto etataci montale persone con cui si andava a riunire un po' più in là 5 minuti e 10 ma mi bastano anche tutto ad esempio arrivare attorno a piazza della scala e quindi tra l'altro quando ho detto a studiare Tadini appunto cominciando dai primi anni uno dei primi su cui mi sono dato ragionare era solo la questione generazionale perché la prima generazione degli anni venti si è trovata ne so prima a cavallo nella serie di venti trovata un po' troppo giovane che era per già spalle forti per affrontare una guerra con piena coscienza e poi la costruzione con le esperienze alle spalle e però già abbastanza grandi per sapere cosa stava accadendo ma per non riuscire a elaborare delle risposte profonde rispetto appunto a Vittorini a montare hanno avuto percorsi diversi però la generazione di Tadini e la generazione di Gianciardi quella del buono per cui il remato degli intellettuali che sono stati in modo di Cine Tadini si è dovuta scoffare improvvisamente come definisci la guerra di nominazione di questa generazione si perché la posizione che non è chiamata è una generazione di anni difficili perché è la postura che si trovava a dover ricostruire senza troppa esperienza alle spalle però prendendo a Vadello alcune delle tecniche che hanno fatto più o tra tutto l'Inghilio Baci nello stesso montale e le varie iniziative che questi giovani in erva cercano di mettere in piedi ma le quali una rivista che è data molto poco che stanno più importanti si chiama Balello Vinalizzi che ha visto per due anni tra il 60 al 62 e che è la relazione appunto del buono con il proporzio di Giuseppe Aimone cercava di mettere in seguito queste due generazioni ci dava i maestri come punto di riferimento ma intanto aveva portato un discorso artistico ma anche più generalmente culturale e generazionale e senz'altro un punto di riferimento era un oggetto di Vittorini si tra l'altro Vittorini tanto per far capire tutti questi scrittori che mi sta parlando si muovevano con un tessuto sociale che era lo stesso per tutti fondamentalmente e quando si inizia un po' a studiarlo e all'interno delle cose sono continui di mani l'un dell'altro lo citare prima che Vittorini è stato il primo ad aver pubblicato Tadini in una scelta in un po' netto su Politecnico è stato anche il primo ad aver pubblicato la prima opera narrativa nel romano questo di Vittorini e di Napoli quindi tanto per Vittorini è stato un po' il delimungo di questa generazione anche di un paio di generazioni fondamentalmente perché comunque quando Vittorini animato a Milano per un lavoro prettamente editoriale di Vittorini eccetera si è un uomo la sua figura ha tirato a sé una serie di scrittori aspiranti scrittori notevole perché questi sono diventati i modi più importanti del secondo recetto italiano si deve vedere come questo rapporto tra un personale che c'era da queste figure si possa ritrovare anche in un certo senso nel modo in cui hanno raccontato gli stessi episodi in mente la potentissima immagine dei morti di piazzare di Lardo Augusto in un uomo in un uomo ucciditi nella tua guida come non di identicare la tua domanda di Vittorini che è del 40 giusto prima no il 46 quando sei probabilmente nella tua vita della guerra no è il libro che si è uscito in fase di 45 ma è stato scritto è stato l'unico libro la resistenza è stato scritto durante la resistenza e infatti a livello di prospetto agli altri la resistenza è fortemente allumorato da modelli pre preesistenziali esatto preesistenziali ma è stato il primo libro di tutti gli effetti della resistenza no diciamo questa immagine di un ordine a Paolo Augusto che compongono la cena carica del diritto di Vizioini ritornano poi a 40 anni di distanza nella lunga notte come i formaggi di Zardini dell'87 come i morti di Zagloretto perché poi erano quelle decisioni di Vizioini era fatto a rassicurarli in un'altra piazza ma l'episodio storico era lo stesso 15 partigiani giustiziate poi esposte in pubblico in Zagloretto come rappresaglia per una tutta l'opertanità tra i partigiani su una squadra nazifascista su cui peraltro c'è anche una bellissima poesie di Quasimodo in cui riesce a mettere in versi tutti i nuovi dei partigiani uccisi e quell'episodio lì che Zagloretto vede nel 44 quindi lui ha aiutami con il caldo di 17 17 anni rimane al centro della sua memoria di Giovanni Occitino rimane colpito dall'immagine anche perché poi il padre degli cittadini che era una persona molto religiosa che era andato a pregare il fronte di questi partigiani esposti dal pubblico ludibrio solo che recendivano diversamente come racconta anche di Torini almeno se ne curano quasi facendo percepire invece l'appoggio morale che le azioni dei partigiani avevano da parte della popolazione quindi quell'immagine da un certo punto di vista tragica da un certo punto di vista stridente perché dietro il cavallo di questi partigiani c'erano i manifesti degli spettacoli di Tadragasi che ancora andavano in scena anche parmente a Milano forse in una città di guerra che sta in più ancora nella vita scrovesse normalmente quindi c'era questo contrasto gli spettacoli pubblicizzati nei manifesti sui cartelloni davanti e davanti questi questi gravi queste immagini matura il tempo poi ad esserci 40 anni dà origine al lucro che è della Lunga Notte che è un romanzo in cui questa scena non compare ma compaierà il mondo delle attrici e degli attori degli anni dell'occupazione antifascista in cui compare però il passo successivo sia esposizione dei caratteri di 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 per vedere il carattere di Mussolini, della Putacea, dei disegni fascisti e quasi celebrare la morte in un modo di follia collettiva che pur giustificata lasciava un'impietudine al fondo della coscienza del giovane, per lì in quanti anni c'era la giochetta. La mia notte è un romanzo che tocca negli anni della guerra e in qualche modo distaccato dalla lettura ideologica e dei fatti storici. Tu non ti danni la comodità di fare una revisione, naturalmente. Sì, mi ha aiutato anche dalla costanza temporale che è stato tra l'altro libro che mi fa. Tra l'altro a proposito dei manifesti teatrali, ma altrimenti una cosa che appuntamente sto facendo le ricerche per il capitolo su Vittorini, l'hanno bombardata sotto i bombardamenti costanti che hanno distrutto una gran parte della città tra i vari edifici che sono stati bombardati c'era anche la scala. E sotto i bombardamenti, dal primo momento in cui la scala è stata parzialmente distrutta, sono subito iniziati i lavori di ricostruzione, tanto il vero che la scala abbia aperto al tempo record della guerra, se non sbaglio proprio lo stesso anno in cui la guerra è finita, a dimostrare il fatto che era sempre giocato di mantenere la vita di simbolo e come quello che si diceva anche prima. Tra l'altro Vittorini è stato il capitolo più bello da scrivere in un certo senso ma anche più difficile, è stato quello emotivamente più complesso perché appunto Vittorini con una precisione toponomastica in un'altra caratteristica del suo stile si muove, fa muovere il suo personaggio, ad esempio il capo partigiano, avanti e indietro per la città, da Corso Simpione, a Morino delle Armi, appunto Largo Augusto, Porta Venezia, comunque, e questa città è una città morta fondamentalmente in cui facendo un punto di ricerche e guardando molte fotografie dell'epoca, dello stesso periodo, fa veramente effetto pensare oggi a quelle stesse vie, quindi a scrivere così precisamente, ridotte in macerie. Per dare un po' uno sprint alla conversazione che stava avancrando a tematiche un po' pesanti, ti volevo chiedere, tornando a Tadini, infatti, una delle caratteristiche principali, o almeno di un pezzo di tu, di Emilio Tadini, scrittore, questo, è il punto di vista stilistico, nel senso che, come si accettava prima, tende anche legge di essere sperimentale come stile, ma non avanti a vista, il che vuol dire che, pur dal punto di vista estetico, quando si legge, si ha un grandissimo riscopro intellettuale, estetico, rimane e esce in maniera comunque sempre molto leggibile. In questo caso mi riferisco soprattutto alle tre opere degli anni 80 e degli anni 90, in un'altra parte pura lì, vengono occupati insieme, chiamandole la trilogia del giornalista dell'esterno, che è importante, unifica sempre romanti. Quindi mi interessava sapere, ci puoi un po', raccontare appunto questo punto di vista stilistico, da quali possono essere i modelli, qual è la sua ricerca, qual è la sua opera maggiore, i risultati sono maggiori. Sì, tu il tuo sperimentale non avanguardista perché, appunto, perché gli anni i cittadini iniziano a scrivere, pubblicano poi su un romanzo, tra i 63 anni l'amore, il dibattito letterario per intorno a questa nuova vanguardia e a quello che è un gruppo di scrittori, come l'Italina, quindi l'uomo, proprio lo stesso Bianciardi, prova invece a elaborare in direzione di uno sperimentalismo che non sia avanguardista, che vuol dire che prova a sfidare, ad un grande linguaggio, la situazione delle forme da raggiungere quasi la non comunicabilità, come se fosse un obiettivo, da raggiungere una sfida del concetto prima ancora che dell'esterno. Il primo romanzo di Tadini, che hanno l'amore, pur essendo scrittano dalla palestra, però soffre un po' di una difficoltà di lettura, una storia molto complessa con una pittura testuale, narrativa, forse è un caso, forse no, pubblicando quello che a 17 anni non pubblica romanzi, si dedica alla pittura, diventa famoso come pittore, e infatti poi verrà, lì poi è conosciuto probabilmente come pittore, e poi invece nel 180 pubblica un nuovo romanzo dell'opera, in cui compare questo personaggio che è un giornalista, che ha una tantezza di spazio, l'indica, che lo rende goffo e sempre un po' imbarazzato di muoversi in luoghi di spazio per fare la città di Milano, fa il possesso molto appunto nel dito, permettergli appunto di registrare con estrema fedeltà quello che racconta, la parola, la vocalità delle persone che si trova ad avere a che fare. Nei tre romanzi, che confondono questa tecnologia, che sono l'opera, la lunga notte e la tempesta, questo personaggio di volta è coinvolto in storie diverse, sempre con personaggi molto eccentrici, di molto tipo d'arte folle, poi l'amore dell'incenzio della fascista scappato e scampato, diciamo, alle persecuzioni partenari da quello che è ora, e il terzo invece è un alienato sociale, che è un problema tra l'amore della figlia e soprattutto nella famiglietta. In tutte queste situazioni, questo giovanista si mette ad ascoltare le parole di questi personaggi e ciò che merita più di tutto, e quindi caratterizza principalmente lo stile dell'organizzazione diversamente del primo, è l'intensativo di restituire l'organità, la parola, la parola vocalità. E i modelli per cercare di fare questa cosa in una maniera più efficace possibile sono, per Fradini, sostanzialmente tre. Uno, Joyce, di cui l'altro è stato il produttore, uno è Garda, che riguarda appresenta anche l'ospediatismo linguistico milanese, e il terzo è Selin, uno scrittore da cui rimane folgorato, l'amore del 1960, quando ancora, diciamo, era diffuso molto poco tra l'altro italiano, e che poi negli anni smottima frequentata, diciamo, e prendo adesso la Selin, un'immagine che Fradini ci dà più in artistiche, più in contesti, per rendere l'idea di cosa vuol dire lavorare sullo stile, soprattutto per risultare la vocalità della parola. Se vi piace pensare che scrivere come si parla sia la cosa più semplice, basta in un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta, l'avvento, ci apparirà l'aria di rinflazione, trovata dall'acqua, spezzata. Quindi, la linearità del bastone, nell'acqua, appare in un momento spezzata. Per fare in modo di rendere la linearità della barchetta, quello spezzata, fa sì che appaia agli occhi, allo sguardo dell'elita. E' lo stesso lavoro che come lo fanno lo scrittore e cercare di eseguire quella apparente linearità, cioè lavorare, rendere quanto più ha piaciuto la lingua, quanto più ha lavorato, per dare l'impressione di un anno e una seconda, e poi la cifra di questi romanzi. L'altro modello, come dicevo, è Gabba, che è chiaramente attraverso di muoversi anche sui diversi registri, dello stile e della lingua. Gabba, che, a caso, è al centro di uno dei capitoli del bicchiere, perché ovviamente Gabba lo conosciamo per la condizione del dolore, per il pasticciaccio, però poi è anche l'autore della leggenda dei primi milanesi. Sì, Gabba è sicuramente un modello, non soltanto il Dima, di molti scrittori di quegli stessi anni d'italini, perché è scoperto comunque dopo, quindi in realtà scoperto, fondamentalmente non scoperto dopo la guerra, nonostante la sua attività di scrittore sia molto più profonda e sia molto precedente, direi che è un po' il modello di molti scrittori di quella generazione. Gabba poi per Milano, a partire appunto dal nome, dal soprannome, che viene identificato dal Pinzo del Gran Lombardo, dal pesca memoria appunto, è estremamente milanesi in moltissimi aspetti. Sì, lo si lega sempre a Milano, però poi non si dice mai tanto di come Garda ha fatto Milano, perché poi non l'ha fatto in un romanzo, fatto è finito, l'ha fatto in tanti... Dove essere un romanzo. Esatto, ha fatto in tanti frammenti, però è un'immagine anche un po' diversa dalle altre, che gli scrittori che ci sono citi, con Cialda, con la Romano, Vittorini o Cervanienco, la Milano di Garda è ancora diversa rispetto a questo. Milano di Garda è diversa, A per il misuribile benediatura stilistica di Garda, che riesce a deformare in maniera saccastica, eronica, estremamente colpa quello che conosce e quello che vede. E secondo luogo per la formazione di Garda, di nuovo la produzione estremamente Milano di Garda, perché mette insieme una formazione scientifica, studiatore politico, con un'altra formazione letteraria, che è una caratteristica che questa molto rimarga, molto realizza. E un terzo luogo per la realtà di Garda. Citaria appunto la Dalgisa, che probabilmente è l'opera maggiore metà da Milano, tra quelle di Garda, perché Garda non ha mai fatto mistero di non amare Milano e se ne è distaccato ben presto. La Milano che esce dalla Dalgisa è la Milano dell'Auto de Guerre, è la Milano degli anni 30 fondamentalmente, ed è una Milano che mi descrive, a partire dal punto di vista di milanese e fiorghese, all'interno di un tessuto di relazioni molto ampio, che sembrano un po' delle radici mistecabili che legano i cargioni con i perroscoli, con i figli discorrendo, tutto quel elenco che lui cita ha raccoggiato i 120 professori. Intanto un'altra cosa che mi viene da Garda, e poi che lui c'è stato fatto di giornalista, è una sorta di infero, magari di insofferenza, di astio, direi a di borghese, che era poi quello proprio dedicato perché la borghese non faceva altro che criticare la balladina, tutti i vizi della borghesia. Poi Fadini lo fa ad Alessandro, lo fa a 50 anni, quindi quella borghesia è cambiata, una borghesia con ambizioni artistiche, di letteraria, antifinio culturale. Quando quella di Garda, invece, c'era una borghesia con tiglia del positivismo di fino a 800, in 200, operosa, scientifica, o pseudotale, discorrendo dalla caratteristica e poi la peculiarità, per cui appunto la D'Aggisa, soprattutto nel momento della sua uscita, non ha riscosso praticamente nessun successo, invece, è il fatto che Garda racconta, che si scaglia contro questa borghesia, nei momenti, ma il libro, effettivamente, esce quando la borghesia non esisteva più, non nella città stessa, che mi racconto non esisteva più, per esempio, nel 44, quando Milano è distrutto dalla guerra, non c'era borghesia, non ci sono nemmeno una gran parte delle istituzioni, non parla, di conseguenza, è stata la più perfetta interpretatività possibile per far uscire quel libro, che è stata una caratteristica abbastanza preoccupata, da un certo punto di vista, dal scritto di questo amore e odio che era stato delegato a Milano, allo stesso ambiente da cui Un altro autore invece legato a Pernini, non tanto per un parentere di stile o di altro, è invece Fuzzatto. Perché non viene mai eliminato nei romanzi di Pernini, però se ti ho mai visto la signorità del Corriere, il primo romanzo della teologia che è l'opera, che si può essere una bianco di cinema che non è mai citata, ha forse come luogo cardine del racconto oltre a certi ambienti in cui ci si sposta, però la relazione, l'archivio del grande giornale milanese che poi si passa dal Corriere. Il Corriere è stato per tanti anni collaboratore, lettore della terra, socialista, fisico o d'arte, e quindi arriva un po' quel modello del Corriere come istruzione milanese a cui partire per raccontare una società in trasformazione. E da quel Corriere invece partono le scorie bande di Puzzatto per Milano, le sue controfigure, insomma, inglese. Sì, tra l'altro ci si può, ci avviciniamo di più con l'epoca perché le grandi opere di Puzzatto sono quelle necessarie, come un amore che colma Fulmetti. E la zona indagata, opposta ossessivamente da Puzzatti e dei suoi protagonisti è tutta la zona che si estende attorno alla sera, dove lui ha lavorato per tutta la sua vita e dove appunto davanti al quale è anche nato. Non è nato perché è nato Belluno, però è nato Belluno perché era in vacanza, non è nato perché era nella villa di Campania, che era quella dei Muzzatti Traverso. Lui è cresciuto appunto in via San Marco, davanti all'Università del Corriere, ha lavorato da quando aveva poco più di vent'anni per tutta la sua vita al Corriere della Sera e quella è la zona in cui, nel momento in cui Muzzatti sceglie di fare un grande scarto dal punto di vista stilistico e tematico, nella sua produzione letterale, ossia nel momento in cui si stacca i modelli fiabeschi tipici dei suoi rapporti del mistero, i personaggi di uno dei scegli, un registro più realistico, subito si concentra su Milano come se tornasse un po' al luogo dove, in realtà, distrutta tutta la vita, anche se siamo leggerduzzati per la gran parte della sua produzione, non sembra, sembra che lui sia appunto, che è nato Belluno, sembra che lui racconti fondamentalmente il mondo fantastico che si estende su queste montagne, sulle valli, non vengono anche per le due minuti da facendo tanto tutto e molto privilegiati di quello che è morto e appunto ci sono... l'amore è il... l'amore è il... è anche l'amore di Muzzatti per Milano si, ma è un amore un po' di storno come anche l'amore di Muzzatti per Milano, le città che non si staccherà ma lui e soprattutto dal mio punto di vista è veramente il momento in cui, questa è una opinione prettamente personale, ma è il momento in cui Buzziati fa una cosa che pochissimi scrittori e pochissimi artisti riescono a fare, ossia quando sei all'apice del successo, quando tutti ti riconoscono per determinate opere che hai scritto, per una certa città stilistica, tutti leggono tutto quello che fai, scegliere di partire da capo, rimettersi totalmente in una storia estremamente personale, come è un amore, come è un problema fumetti che dal mio punto di vista è la stessa identica materia narrativa, e ripartire da capo mettendo tutto in gioco, tutta la rispettabilità borghese, appunto, tutta la nuova Garda, che era un borghese, nato dietro Moscova, giornalista dei Corriere della Sera, è un borghese per cittadinanza. Intanto, come una delle cose che prima si diceva di Garda, che racconta la Milano questa recensione, subito dopo, l'Officiale di Vittorini, ogni ora della situazione, racconta la Milano a recensione, perché è una città che cambia continuamente, infatti un amore non è uno di loro dei borghese, dei borghese, dei borghese, però una delle cose che mi è piaciuta molto è vedere come viene raccontata la zona di corso per arrivare, che è una zona estremamente borghese, comunque ricca, o archite al shirk, questo lo sapevo dire, invece l'amore è una zona estremamente popolare, dove il protagonista va a cercare appunto dove ha avuto la ragazza di cui si è innamorata. Sì, è uno degli ultimi punti del centro storico che all'epoca, stiamo nel 69 se non sbaglio, poco prima, comunque, alla fine degli anni 60, rimasti popolareschi del centro della città, infatti tra molti dei luoghi che erano popolareschi, come era stato il motore, per esempio, a Torno, dove adesso c'è Piazza Dina, sicuramente, che è stato buttato giù e ricostruito, in un periodo fascista questo, anche negli anni cinque anni si è cercato di buttare giù e ricostruire il corso da ribaldi, questo è uno dei motivi per cui la strada procede a Zikdango, fondamentalmente, che ci cammina, vede giusti apposti dei palazzi, appunto, dei vecchi palazzi dell'inghiero che sono strutturati, di inizio novecento, dei palazzi del 1950 che sono arretrati sotto la strada perché l'idea era costruire una strada, per l'urbanistico voleva, costruire una strada molto più grande, un modello corso per Osiris, che collegasse tutto, è il motivo per cui ancora oggi esiste il cavalcami a bussa che supera la stazione Garibaldi e non porta da nessuna parte, ma teoricamente dovrebbe portare al castello, da una parte, con questa strada a quattro corsie, superarmi la ferrovia e distruggere la toglia dei Orsieri, per poi collegarsi a, non so se mette il regioio, o comunque, una perante altra cartella verso l'alba, fondamentalmente. Come stiamo andando? Come stiamo andando? Forse abbiamo ancora qualche minuto, giusto perché io posso riprendere alcune delle domande che mi hanno sempre segnato per Giacomo, prima di divagare verso altri iscrittori, una delle quali voleva essere, appunto, abbiamo parlato prima molte volte del fatto che Tadini è un'artista a tutto tutto, è un'artista come adesso ce ne sono pochi, pittore, critico, romanziere, poeta, curatore anche di mostre, è un'artista a tutti gli effetti. Mi chiedevo, e tu sicuramente lo sai perché sai qualsiasi cosa da questo argomento. Quale fosse il punto minore tra tutte queste variegate facce del prisma Tadini? Grazie. Allora, non è facile dire cos'è che venga insieme tutti, nel senso che all'apparenza tanti lavori fatti a Tadini, il critico, il pittore, lo scrittore, il poeta, sono cose che sono dei santi per i loro, c'è la prima che anche Melina. Io ho avuto la fortuna, grazie a Francesco, di poter vedere alcuni di tanti Tadini che Tadini ha tenuto per appunti, per schizzi, per repressioni personali nel corso degli anni. E lì c'è un po' di, se si capisce l'origine di questa versatilità, un po' figlia di tempo, appunto, formarsi e avere ambizioni artistiche o umanistiche, diciamo, in generale, negli anni cinquanta vuol dire cercare di pescare un po' di tutte le parti in quello che la realtà offre e vedere un po' dove si arriva. Non si ricordo se Pino Corrias lo dice nei deboli di Cattabianciati o lo stesso Tadini lo dice in un'intervista, parlando appunto della vera degli anni cinquanta e sessanta che c'era per ognuno appunto a fare qualsiasi cosa e quindi addirittura Don Deo, il grande fotografo, si è diventato un po' per casa, perché un giorno c'era qualcuno per fare un servizio fotografico, lui ha detto che non c'è una macchina fotografica e manda a farlo e da lì non ha chiuso messo. Mulas, parlo. Eh, esatto, anche Mulas, oppure più vicino a Tadini. Quindi un po' è quello, il fatto di avere una formazione eclettica che rendeva disponibile a qualsiasi soluzione. Dall'altro poi c'è una riflessione che Tadini porta avanti a e qui sono già a dimostrarlo, che è più concettuale, quindi è filosofico, epistemologico. Nella prima città vava distante, questo saggio un po' strano che va costruito per aforismi che Tadini pubblica negli anni 90, ma che in realtà ha poi le opportunità e le riflessioni che lui ha condotto nei decenni precedenti e che in modi diversi poi trovano espressione nelle vitture, nei romanzi, nella poesia, di cui mi sono occupato ma adattamente proprio che ancora sarebbe già data in la gara di certi punti per chi si occupa di poesia, ad esempio. Così come nella critica, perché il primo mestiere Tadini ha fatto è che la prima volta ha messo a confronto queste sue idee che stanno andando maturando, che ha fatto delle etichette teoriche, anche la sensibilità, eccetera, l'idea integrale con le opere degli altri. Una volta ha messo a confronto con le opere altri, poi ha portato a cimentarsi in proprio e a vedere dove si sopportava, appunto che i miei essi sono abbastanza distanti apparentemente, però in realtà a studiarli, come li ho provato a fare, se li conosce uno con una matrice comune. Questo mi permette di chiederti un'altra cosa, soprattutto che volevo soffermarmi prima un po' il discorso di Dallato, tornando sempre dal punto di vista stilistico del Tadini romanziere, che come se vuoi ci sono un grande fan dei romanzi sperimentali, ma non erano guardisti. Sì, e una cosa che mi ha interessato leggendo appunto quelle tre opere di cui si parlava prima, che leggeva il generale di Stavino, è l'utilizzo che Tadini fa anche di modelli di genere, se vogliamo, soprattutto il romanzo giallo, l'investigazione in un certo senso, che sia nel primo ma anche e soprattutto nella tempesta, e con anche la figura del commissario, di figura che è in alto quindi. Una cosa che volevo chiederti, proprio per curiosità personale, qualcosa riferito al genere, all'innesto del genere, all'utilizzo del genere. E, dopo ciò che ci vuoi dire adesso vai. No, la questione di dedicato, noi siamo parlati di romanzi, di sensificare eccetera, che è l'ultimo, che esce nel 2002 e che esce poco dopo che Mio Tadini muore, che sviluppa un altro genere ancora, che è quello del romanzo di viaggio. Ma invece nella teologia, in effetti questo giornalista si improvvisa invece ogni volta investigatore un po' per caso. Gli anni 80 e i 1990 sono anni che nella storia letterale contemporanea vanno sotto l'epichetta grossa del postmoderno, per cui non si può scappare a parlare di quegli anni, bisogna confrontarsi con quello. Tadini lo fa in maniera originale, forse anche perché lo fa con una certa esperienza alle spalle, e quindi così come il postmoderno riprende i generi letterari di usa, di trasforma, lui a sua volta lo fa, senza però quel piedio da citazionismo al nome della rotra, se vogliamo prendere più celebre, o se non altro libero al viaggiatore, ma lo fa utilizzando proprio come semplice quadro, all'interno del quale potrà muovere i personaggi in maniera imprevedibile, perché appunto questa indagine nell'opera che il giornalista si mette a fare per un servizio giornalista, non perché sia incaricato dalla polizia, diventa una ricerca al contrario, dove è l'assassino, un critico d'arte che ha prima inventato un artista, e poi quando l'artista ha voluto prendersi i metri che non aveva, il critico ha deciso di ucciderlo e farlo scomparire, facendolo vedere solo i testi che lui scriveva sulla sua opera, è questo critico che ha talmente tanta voglia di celebrare la grandezza della sua opera, che arriva a dichiararsi al giornalista che sta investigando su quel caso, perché il riconoscimento della grandezza della sua invenzione è il contimento del suo delitto e della sua opera artistica. Questa è una storità tra l'altro molto postmoderne. Sì, però almeno mi sembra che Tadini lo faccia sempre non per l'aspetto del gioco, appunto dell'ammicamento metà letterale, ma più perché da un lato riesce a fotografare i caratteri umani di cui mette in luce la vanità delle ambizioni. Tanto c'è bisogno di che artista sia, un artista concettuale. Questo determinante tipo a determinante, in relazione al postmoderne, cioè è una spesa di politica. Sì, sì, sì. E' una parabola. C'è anche una parodia, esatto. Dei ventici periodi. Diciamolo, alla, non necessariamente lui, ma alla volontaria capace di inventare una nuova pacchetta magica delle relazioni concettuali, per così dire, linguisticamente in realtà inesistenti, se prendiamo la trans-avanguardia, a quale mio padre si dava conto. Era esplicita. Come categoria non solo i singoli artisti che la componevano, ma come invenzione, come dire, in scatola, in vitro, che non aveva fondamenti. Allora, la storia di questo gioco diventa una storia, come dire, nella storia dell'arte, dove il giornalista guarda a caso colui che informa. Mio padre aveva la mania. Diceva anche l'ultima pagina della romanzia di se lì, informa di qualcosa, no? E tutto sommato mio padre aveva l'esistenza anche nei quadri di informare. A tal punto che forse le parole che lui metteva nei quadri servivano, non solo da bussola nello sguardo, come dire, nell'attenzione, ma proprio a determinare uno scivolamento, come dire, della collocazione di certe immagini che derivavano anche dalla pop art, eccetera, da correnti, comunque, verso, appunto, la categorizzazione astratta. Il padre ha scritto questo libro, guarda, che fu un'importanza importante, che era l'occhio della pittura, che fosse in cambio, tu l'hai analizzato, eccetera, Giacomo, ma con il quale ha voluto esprimere, al di là del contenuto letterale, come dire, un modo di guardare l'arte che fosse scevro da categorizzazione a priori. Cioè, diceva, un quadro diceva, lo dice continuamente, lo spiega, ti guida a questo, un quadro va guardato. Come guarda un dato Michelangelo, anche per assistire, se tu guardi i muscoli del Dio teso a sofflare la vita d'Adamo, capisci che questa tensione muscolare racconta qualcosa che non è solo la grandiosità del gesto, ma è qualcos'altro che sta dietro. In realtà è altamente ironica verso la rappresentazione precedente. scopri anche l'ironia di Tadini, non solo nei suoi quadri, ma nella sua stessa storia. Allora, l'ironia che mi trovava in Selin era la capacità della parola quasi autonoma dal pensiero letterario. in fin dei conti Selin radicava, come Gatta nei cantieri, radicava la novità dove? La radicava nel fatto che un uomo che per tutta la vita ha curato i poveri senza farsi pagare. Ora, non è moralismo, non è autobravo, il punto non è questo, è da esperienza di strada, in qualche modo di vita, di ascolto, di parola che rotola nella storia, io capisco la direzione verso la quale la parola sta rotolando. Il contenuto di novità linguistico non sta in una costruzione astratta, sta nel modo in cui io faccio scivolare la parola e l'appoggio in una storia e informo. Dante cosa ha fatto se non informarci dall'inizio alla fine di qualcosa di cui nessuno era così informato? Andiamola così. Sì, poi c'è un'altra cosa da Selin che diventa poi ciò che mi permette di utilizzare gli stili di genere ma di superarli. Selin diceva che lo stile esiste solo quando c'è una spinta emotiva a portarlo avanti. Senza quella lo stile è appunto solo artificio o ancora di sciardo. Per Selin era il risentimento, l'astro verso una società che, infatti, giustamente lo immaginava. Per Garta era la vena tragicomica di insofferenza verso la Borghesia che non si sa parte niente. Per Tadini è una volontà di mettere alla Berlina eroticamente e paralizzare tutte le ambizioni metafisiche, del mondo intellettuale, del mondo artistico, del mondo letterario, della politica, della storia. Però ogni volta è anche un tentativo di rompere alcune letture macrostoriche per non sapere quello che sono le piccole storie che hanno fatto il grande racconto collettivo. E quindi in lui è quella spinta ironica, che poi deve essere anche uno scrittore a parte comico, che liberamente di usare dei generi ma di smentirli poi molto presto. Sì, visto che siamo arrivati all'ora fisiologica di attenzione in pubblico... Aspetta, io volevo fare un piccolo riguardo al pubblico dedicato a libera. L'uscita è subordinata al possesso... ...e l'ultimissima cosa, prima di lasciare spazio, se ce ne sarà... L'ultima domanda è, visto che io appunto lavoro in editoria, ho un fondamento editoriale, In generale, la mia domanda è, immaginati che qua nel pubblico ci sia un editor, una persona che può scegliere di pubblicare le opere quotidiane che in questo momento non sono disponibili, perché se non sbaglio è disponibile soltanto, purtroppo, or not. Perché dovrebbe farlo? Devo convincere una... Devo convincere un ipotentico edificare anche le altre opere romanzesche, perché no anche le altre opere... Allora, l'ultimo elemento appunto è che anche un lettore scettico come Michele, dopo aver letto un po' di libri di Tadini, si è appassionato. No, scherzi a parte, sono convinto che la scrittura di Tadini, come volontiere, sia una scrittura che è oggi anche per il tipo di dibattito che c'è intorno al libro e alla literatura, è una scrittura particolarmente attuale, sia per i modelli che ha, che adotta, che si li fa, senza evitare anche disegualmente, con i ricadini, Tadini, Joyce, sono i suoi totem, e riesce però a trasformarli, a rinnovarli. Quindi da un lato questo, quindi una scrittura assolutamente attuale a quanto ha riferimenti e a quanto ha proprio esperimentazione. Dall'altra, una forte vena narrativa, nel senso che i romanzi di Tadini sono libri pieni di storie. Oltre alla storia principale, su cui si legge la trama, il fatto di aver creato, di volta in volta, dei personaggi, così potrebbe dire, auricolari, che sono poi dei ricercatori, fa sì che questi personaggi intercettino tutte le storie che compongono la realtà e costituiscono delle piccole digressioni che si affastellano intorno a una situazione principale. Quindi sono romanzi di storie e quindi, in anni di storytelling come i nostri, possono funzionare bellissimo. E poi magari c'è Milano, giustamente. Ma come adesso c'è la passione per il racconto di Milano e in tutti i libri di Tadini, anche nell'ultimo in Eccetera, che è un racconto della storia con un gruppo di ragazzi che da Milano partono a ricerca della discoteca ideale, che si trova invece in Romagna, attraverso una tutta la terra padana, però nel costruire questo paesaggio notturno padano, molto agli antipodi rispetto a Milano, si vede in controluce una serie di caratteri che si trovano di altri romanzi milanesi e che proliferano anche in macro ambientazione, come quella della scelta e eccetera. Quindi non c'è via di mezzo, non è che si dedica a qualche romanzo, uno o due, lo si deve dedicarci tutto, tutto insieme. Mi sembra, mi sembra costo. Chi è quasi convinto, anzi, l'ho già convinto precedentemente, purtroppo non posso fare, non ho questo potere, però poi mi si è rovignato. E quindi ora la domanda d'obbligo finale, se qualcuno ha delle domande per Giacomo, per gli autori, se ancora delle domande siamo qui per cercare di rispondere. Grazie a tutti.